ben ritrovati amici di mi sono rotto il il canale divertimento oggi ragazzi mi è capitato un'occasione fantastica proprio io voglio vedere delle immagini di certi quadri famosissimi che sicuramente conoscerete con la possibilità di acquistarli cioè di metterli nella mia galleria di mi sono rotto il ragazzi cazzo ci acculturiamo un po ok però non essendo un esperto io di arti queste cose qua quadri ho chiamato un amico sicuramente lo conoscete non vorrei fare il cognome però adesso per un po qua si siederà un critico d'arte famosissimo vuole chiamare arrivo subito vittorio vittorio sono dovuto arrivare qui nella calabria ma cos'è questa roba qui cos'è è un giamaicano fatto di crack un giamaicano torto non si vede né né dove è il pomo né dove è la tetra non si capisce non si capisce mai capra 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 questo l'ha fatta vai con il secondo vai questo sarebbe New York visto da chi fa un tossico questo tossico l'ha fatto ha messo niente i colori via via capra 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 andiamo avanti vediamo vediamo ecco qua si capisce qua qua eccolo andiamo 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 qua questo è una tipica rotcura di coglioni perché quando uno si rompe i coglioni prendo i pannelli e comincia a fare perché calcio vuole capra 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 i capelli corrucchia è una capra e ora andiamo aah ah questo è ah cos'è è un disegno arte contemporanea arte contemporanea questo proprio è mio nipote con il colore legno le faceva meglio capra! 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 sono delle capre vediamo l'ultimo dai l'ultimo questo di chi è? ma cosa cazzo è? un alcobarino con morbillo eh! ho un morbillo con alcobarino ma io lo so capra! fammi chiamare perius vaffaculo sono piccolioni allora perius ma cosa cazzo mi fai vedere? mi fai venire qua in calabria sei una capra una capa vaffaculo me la faccio vedere io qua una bella una bella opera d'arte ok? come cazzo mi chiami? dai riesco dai andate alla opera d'arte ciao belli paura eh? comunque ragazzi spero vi siete divertiti mi raccomando iscrivetevi guardate mettete like vi voglio bene mi raccomando ci vediamo sempre qui su mi sono rotto il ho fatto anche la rima ragazzi ciao belli ciao 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 ciao